Ah, niente, niente, sono stanco, sono stanco. Ma perché? Ah, il lavoro stanca, qui si lavoriamo tutti, tutti siamo stanchi, è normale. Pure a casa, un sacco di lavori, mia moglie, ogni giorno c'era una. Eeeh, sai come sono le donne? Devi sopportare, sopportare, sopporta, che te frega. Ogni giorno c'era una. E che c'era stavolta? Adesso mi ha chiesto che vuole più libertà. E dai, che te frega. E falla spaziare. E qui si sto allargando la cucina. Un open space. Ma cosa più?